Ecco, guarda lì, appello, devo dire, con il SIRS 2021, con il SIRS 110, ok? Il timer, utilizziamo quello, va dietro, aspetta che, lo sposti un po' più a destra e levi quella petaletta, per favore, please, ottimo, quando voglio, apriamo un po' che parte del frontalto a 10 secondi, facciamo 3, 2, 1 e poi partiamo, con questo che ti dico io, partiamo con questo, vediamo io, 3, 2, 1, vai, ormai è partito questo, vai, vai, 3, 2, 1, vai, bravo, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 4, 5, bravo, 6, bravo, così, così, bravo 7 8 che sta bene 1, bravo, allinea bravo Leo, dai 1 2 3 4 5 6 7 8 9, bravo bravo ripiata un attimo tutte singole, belle vai Leo tutto sbagliato tutto sbagliato non fare cose fatte bene dai 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 bravo, 1 bravo bravo, incastra bene prenditi tempo, 2 minuti e 10 2 2 bravo 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 Leo, vai, ultimi 3 bene bene con queste gambe, spingi 1 duro, bravo mancano gli ultimi due siamo quasi a 3 minuti vai vai l'ultimo vai Leo, tranquillo è finito tutto adesso vai, vai, dai duro vai, vai, bravo 3 minuti e 18 sono solo 6 adesso vai Leo, sono solo 6 adesso dai 1 2 3 4 4 5 6 bravo, adesso sono solo 3 tutte singole spingi con queste gambe che ce le hai tranquillo vai Leo vai Leo, 4 minuti vai Leo vai Leo vai Leo in che spot Leo 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9